Allora grazie Giovanna Cannizzaro, dobbiamo dire che effettivamente il governo sta pensando a fare qualcosa, ora non sappiamo bene come si vorrà muovere, però noi leggiamo per esempio che è possibile che vengano investiti circa 600 milioni di Euro per intervenire anche nelle zone di partenza e poi pensare ad un'operazione di ricollocamento, questo è il lavoro che sta facendo ora il piano di migranti della Unione Europea, come dicevamo, qua lo sto leggendo sull'ANSA, sono i fondi del Global Europe che sono utilizzati 2021-2023, insomma è importante perché avete visto gli hotspot scoppiano, Pozzallo ne ha 100 in più, ma 100 in più, attenzione, vuol dire il 35-40% in più, non parliamo di Lampedusa e cose degli altri posti. L'altro problema che deve affrontare il governo è la questione del cuneo fiscale, perché non c'è nulla da fare per migliorare la situazione economica di questo Paese, noi dobbiamo obbligatoriamente pensare a incentivare il lavoro, abbassare il peso fiscale, aiutare i lavoratori, ma anche i cittadini. Allora vediamo questa breve rubrica della Italpresse sull'economia.